Salve a tutti amici e amiche del Monster High Oggi vorrei pubblicizzare un altro canale Ovvero Giulia Mostra Mica Il suo canale è molto molto bello Con dei video stupendi Mi raccomando iscrivetevi a questo canale Mettete mi piace e commentate ai suoi video E noi ci vediamo alla prossima Ciao